e procediamo eh con la premiazione del secondo posto poesia libera e poesia occhiettineri procederà la dottoressa Nevisca premiare grazie si aggiudica il secondo posto della sezione poesia libera del concorso di poesia occhiettineri 2008 Caterina Sayas con la poesia il perdono complimenti a Caterina Sayas alla quale ovviamente giungerà sia la targa che l'attestato